Alle mie spalle la caserma dei Vigili del Fuoco di Matera con le bandiere a mezz'asta. Un giorno davvero nefasto per i Vigili del Fuoco ma per l'intera comunità di Basilicata. Due servitori dello Stato, due Vigili del Fuoco hanno perso la vita durante le operazioni di spegnimento dell'incendio in Agro di Nova Siria. È il momento dello sgomento, è il momento del dolore, dello strazio. Alle mie spalle dicevamo la caserma dove sono appena arrivati il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, il consigliere regionale nonché assessore Cosimo Latronico, per giunta lui originario proprio di Nova Siria, il prefetto di Matera, il comandante dei Vigili del Fuoco ovviamente l'ingegner Maddalena Lisanti. C'è sgomento, c'è la tristezza e il dolore dei colleghi di questi giovani servitori dello Stato. Sono momenti davvero complicati anche da raccontare perché ovviamente bisogna supportare anche le famiglie nell'accogliere una notizia così tragica. Abbiamo provato a chiedere con garbo una eventuale dichiarazione da parte del prefetto, del presidente della regione che ovviamente hanno declinato e capiamo anche le ragioni, hanno declinato questo invito perché è il momento del dolore intenso ma è anche il momento di capire cosa realmente sia accaduto. Presto credo che tutti si recheranno sul luogo della tragedia, a cominciare proprio dal comandante dei Vigili del Fuoco di Matera. Ovviamente vi terremo aggiornati sullo sviluppo di quello che accadrà.